Il governo sta valutando di introdurre l'obbligo di tampone per le persone vaccinate che potranno accedere ai grandi eventi quali concerti e feste. Questa è una delle misure allo studio, oltre a quella della riduzione del Green Pass da 9 a 6 mesi. Domani ci sarà la cabina di regia e verrà presa la decisione definitiva. Completamente non d'accordo. Per quanto il tampone sia uno strumento per sapere immediatamente se io sono positivo o meno, ci hanno fatto vaccinare con la garanzia che ci stanno qui tranquilli, cosa che non è vera, perché se tu approvi un tampone, anche per noi che siamo vaccinati con prima o seconda, io con la terza dose, mi sento un po' preso in giro. Non dico che ha ragione chi non si vaccina, però se tu mi dici, oh, devi vaccinarti, ma devi anche farti il tampone, in più dovrò pagarmi il tampone, tu mi prendi in giro. Secondo me se viene approvato una tale cosa o casca qualcuno al governo o succede un macello. L'ipotesi di riduzione Green Pass da 9 mesi a 6, lei è d'accordo oppure no? Ancora è patetico anche questo, è patetico, perché siamo parli di che eravamo prima a 12, adesso 9, adesso 6, più tu me lo vai a ridurre, più mi fai capire che è una cosa che non sta funzionando, che non ha mai funzionato. Secondo me sarebbe meglio facilitare un po' le cose anche perché c'è bisogno di un po' di arte nel territorio e che si facilitino un po' le cose per andare a vedere un concerto dove magari puoi anche stare seduto, non devi per forza fare assembramenti, insomma si potrebbe semplicemente evitare il tampone extra e lasciare la vaccinazione come... E' un po' tirare la mano indietro, ecco, quindi penso che comunque sia un po' un da solo capire che il sistema vaccinale magari è un po' rischio, cioè non è così sicuro e quindi è un po' andare ad appoggiare la tesi di chi criticava. Io sono d'accordo perché comunque è una precauzione in più, nel senso il vaccino non ti dà la sicurezza di non avere il Covid, cioè anche col vaccino uno potrebbe avere il Covid e il vaccino appunto non serve per non averlo, serve per averlo in maniera più lieve e meno grave, quindi è una giusta precauzione che secondo me non va ad aggravare così tanta situazione, tanto fare un tampone è diventata una cosa all'ordine del giorno, puoi andare in farmacia in 15 minuti, l'hai fatto e ti puoi godere il tuo concerto puoi andare dove vuoi tranquillamente.